eccoci qui sabato convento con lui lo sposo ciao Alberto da dove vieni? Travagliato allora con chi ti sposi? Maria fantastico sei pronto a festeggiare il celibato qui al convento? sono prontissimo ok ragazzi facciamo dimmi dimmi che si può dire sugli amici del convento vai Davide saluta i tuoi amici di Travagliato ciao ragazzi donne se volete dargli una botta stasera dopo un po' più ok dategli una botta in testa allora salutiamo la tua futura moglie e tutti gli amici di Travagliato ciao ciao